Vittoria, siamo nella sala dei balli di Palazzo Sertoli, una delle sale più suggestive che troviamo in provincia di Sondrio. Cosa c'è da sapere di questo luogo? Bisogna sapere sicuramente che è una sala frescata secondo lo stile barocco rococò, con un gusto transalpino. Gli artisti di questo splendore sono i fratelli Torricelli, che hanno tramite delle pitture prospettiche e la raffinatezza dello stile barocco realizzato una sala spettacolare. Sono stati gli studenti dei licei linguistico e classico di Sondrio e artistico di Morbegno, voluti come ciceroni dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese a guidare i visitatori alla scoperta della sede storica di Palazzo Sertoli e del Grand Hotel della Posta, in occasione della sedicesima edizione di Invito a Palazzo, iniziativa promossa dall'ABI per mostrare al pubblico i capolavori conservati nelle sedi prestigiose delle banche. Invito Palazzo per l'intero gruppo bancario è un'occasione per mostrare alla cittadinanza, ai turisti, a chiunque si trovi a Sondrio in particolare oggi, le bellezze architettoniche e artistiche che conserva Palazzo Sertoli, che è stato un palazzo nobiliare recuperato dal credito valtellinese e messo a disposizione della cittadinanza. Alcune zone, come i giardini dove ci troviamo e la sala dei balli, sono visitabili anche durante le giornate di lavoro, ma normalmente il palazzo è sede della direzione della Presidenza e quindi gli uffici non sono accessibili al pubblico. La novità di questa edizione è il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori della provincia, in particolare del liceo linguistico, del classico e dell'artistico. Sì, quest'anno a livello nazionale, perché ricordo la manifestazione Invito Palazzo è una manifestazione coordinata dall'AVI su tutto il territorio nazionale, per la prima volta si è attivata questa collaborazione con gli uffici scolastici, con il Ministero dell'Istruzione, si chiama Guida per un giorno e visto che poi come fondazione lavoriamo sul territorio con le scuole, abbiamo offerto questa opportunità e quindi abbiamo 20 ragazzi complessivamente delle tre scuole superiori che fanno da Ciceroni qui a Palazzo Sertoli e al Grand Hotel della Posta che è l'altro palazzo che la banca apre ormai da diversi anni alle visite. Nel tardo pomeriggio l'esibizione nella suggestiva cornice della sala dei balli di Palazzo Sertoli del giovane pianista Antonio Atriano, allievo del Conservatorio di Brescia a Sondrio grazie alla collaborazione tra la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e la Civica Scuola di Musica della provincia di Sondrio.